Ciao ragazze, oggi vi parlo dell'anteprima di campagna 9 da ordinare in campagna 7 e 8 Vi ricordo che c'è l'ultima tappa, quindi la terza ed ultima tappa per quanto riguarda il programma fedeltà quindi dovete acquistare ancora per 15 euro di spesa dal catalogo di campagna 9 più l'ho spray profumato per il corpo, per lui o per lei, a scelta costerà 2,95 e in più appunto a 5,95 potete ordinare la borsa, che non so se io la prenderò però mi sembra molto carina, non lo so poi in questa campagna, in questa campagna, cioè due volte l'ho detto in questa campagna usciranno della linea senses, cioè la linea senses cambierà in teoria in teoria e in pratica, quindi allora praticamente ci saranno allegre confezioni, nuovi ingredienti e nuovi benefici aggiunti per tutti come vedete qui uscirà la linea mood therapy e poi l'altra linea vedete si cambia, la citrus bars diventa citrus zinc la mystique resta sempre tale e la reflection neanche vabbè uscirà il crema d'ocidratante allora cambieranno il packaging e i detergenti per le mani ad uso quotidiano cambieranno sia packaging che quantità perché la quantità sarà 250 ml, prima era 300 ci sarà la reflection, la mystique e la citrus zinc io la prenderò perché appunto in ogni casa se ne vanno velocemente allora la reflection ha una profumazione orchidea orientale la mystique al gelsomino, esotica e gelsomino e la citrus zinc aggrumata mandarine con pelmo costeranno 2,99 quindi vi ricordo ci saranno nuove confezioni, nuovi ingredienti nuovi benefici di fresche profumazioni che rigenerano il corpo dove il mare o la piscina poi abbiamo anche un prezzo veramente conveniente perché le fragranze da 250 ml costeranno 1,99 euro mentre quelle da 500 costeranno 3,50 euro al momento quindi se vi interessa qualche profumazione acquistatela allora la mood therapy c'è allora rivitalizing che è questa ha la profumazione di bacca da caipo poi c'è la questi sono crema a doccia no questo è crema a doccia questo è gel doccia questo è crema a doccia ok al burro di calitè rilassante e questo è energizzante all'eucalipto allora quindi lo trovate si è in versione li trovate tutti e tre sia in versione da 250 che da 500 la 250 è sempre 1,99 da 500 costa 350 poi parliamo ancora di senses allora c'è la profumazione garden of eden non so se vi ricordate ma questa profumazione c'era anche tempo fa la mia cliente che era piaciuta moltissima infatti la sto prendendo in anteprima gel doccia idratante sempre in due versioni da 250 e da 500 sempre gli stessi prezzi c'è anche la citrus zinc sempre 250 e 500 poi ci sono i mystic la profumazione mystic però crema a doccia doccia idratante mystic reflection poi nella foodworks uscirà uno spray spray di infrescante per i piedi all'ime 100 ml 3,95 ok avonkier burro idratante per il corpo alvoro di cacao e vitamina E in questo caso in versione da 200 ml 4,50 euro poi uscirà lo shampoo 7 in 1 per capelli danneggiati instant repair da 250 ml costerà 2,50 giusto? si poi della linea natural uscirà una nuova profumazione miele e olio di jojoba troverete lo shampoo con estratti di miele appunto il jojoba che costerà 1,95 e il siero il siero da applicare appunto poche gocce sui capelli umidi non so se vi ricordate ma a tempo fa ce n'era uno al ver bene in campagna 9 sul catalogo troverete anche il balsamo ok? qui non l'hanno reinserito però lo hanno inserito nell'anteprima di campagna 10 è giusto dirvelo perché poi voi potete pensare ma come sul catalogo di campagna 9 c'è il balsamo sull'anteprima non c'è no lo hanno inserito in anteprima di campagna 10 poi per quanto riguarda la solution uscirà un trattamento effetto filler Angelus Result se le vostre clienti hanno apprezzato questo di qua della Giotto Mineral sicuramente apprezzeranno anche questo trattamento anti-rughe effetto filler e radazione rapida praticamente le rughe scompaiono virtualmente in 60 secondi è ipoallergenico adatto anche alla pelle sensibile 4 ml di prodotto costerà 8,95 poi del Lation Kick novità di campagna 8 quindi lo troverete in campagna 8 uscirà il Deurolon anti-sudorale a sfera 2,90 no 2,50 scusate poi uscirà una collezione una collezione no una collezione di make-up 3 prodotti cioè però ovviamente le varie colorazioni veramente bellissimo il packaging quindi uscirà del Lidia Luminos un brush colore sempre vero il Coral Radiant non so se prenderlo però se è scuro non credo qui sembra chiaro ma non è chiaro scuro si chiama Coral Radiant infatti irresistibile blush per toni caldi costerà 6 euro infatti tutta la linea costerà 6 euro poi c'è il duo di ombretti colore sempre vivo 2,8 grammi due colorazioni aspetta che giù ecco quelle colorazioni quello sembra tipo un blu scuro poi c'è anche il rossetto colore sempre vivo quattro colorazioni anche il suo seuro io ho scelto il very violet vedremo come sarà poi di color trend usciranno due prodotti che voi già troverete in campagna 8 allora troverete la cipria compatta anti imperfezioni in una sola colorazione che controlla l'effetto lucido e aiuta a riassorbire le imperfezioni colorazione trans lucido costerà 3,95 ecco qua poi usciranno questi gloss color blast gloss labbra colorato ad alta lucentezza nelle tonalità più trendy io ne ho scelto l'hot pink smash che poi ovviamente arriverà costeranno 2,95 poi ci sono questi occhiali da sole avon tropical escape costeranno 12,90 sono molto carini quindi vedete così però sul catalogo sono diversi c'è un'offerta per i clienti acquistando due prodotti da pagina 188 a 195 ovviamente la sezione dedicata alla color trend avete uno sconto di 5,91 e gli occhiali li pagate 6,99 quindi scusate fate voi se vi interessa questa offerta io la sto acquistando qui purtroppo cioè vabbè dico purtroppo perché comunque ho solo due prodotti da scegliere quindi la cipria e i gloss per quanto riguarda bijou uscirà questa collezione che si chiama Hila Links bella usciranno gli orecchini che sono questi costeranno 6,95 la collana 15,95 no 12,95 scusate e il bracciole costerà 8,95 uscirà questo orologio molto molto carino stile classico ovviamente vi ricordo che Avon vi dà la garanzia per i difetti di fabbrica si chiama orologio da donna classic page book 22,95 poi per i più piccoli sia per bambino che per bambina uscirà lo zainetto spider-man da bambino costerà 17,95 molto molto carino per la bambina invece si chiama zaino bimba 16,95 molto carino e c'è anche il portamonete 7,95 con chiusura a pressione c'è anche la cerniera parliamo di avviamento sportivo allora uscirà questo completo di tuta ovviamente vendibili separatamente allora leggings fitness control che sono queste di qua allora hanno un tessuto contenitivo senza cuciture reggisene incorporato pannello di sostegno su addome schiena pantaloni leggings modellante per fianchi glutei e cosce costeranno 19,95 dalla misura S alla XL canotta fitness control dalla S alla XL 15,95 e questa sarà dietro vedete molto molto carina per quanto riguarda l'intimo finalmente usciranno i reggiseni The One nelle nuove taglie per adattarsi appunto a tutte le misure allora tessuto elastico senza cuciture si adatta su di voi imbottitura rimovibile taglia L e taglia XL allora la taglia L veste la terza quarta coppa B e A di D e la taglia XL veste la quinta sesta coppa dalla B alla W D misura appunto L XL colore nudo bianco e nero costeranno 19,95 poi reggiseno t-shirt bra essenzial uscirà un po' rinnovato perché ha dei si impreziosisce con il pezzo molto molto carini nero e nudo dalla prima alla sesta costeranno 12,95 e poi niente ragazzi l'anteprima di questa campagna è finita spero vi siano piaciute è stato veramente pochissimo però niente vi saluto alla prossima ciao ciao ciao